Rischia di esserci un futuro a rischio, cioè rischia di generarsi una situazione non più gestibile se non si interviene subito, come Nocera chiede da tempo, come l'attuale amministrazione di Pagani ha pienamente compreso e condivide la nostra preoccupazione, ovviamente è questione che incomberà fondamentalmente all'amministrazione comunale che mi succederà. Il futuro del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera è a rischio, lo conferma il sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, all'indomani dell'incontro avuto con gli altri comuni soci della struttura, Pagani e Corbara. Da uno studio preliminare commissionato dai soci per valutare la pianificazione e gestione aziendale del mercato una volta terminata l'attuale fase di liquidazione, è emerso un quadro a tinte fosche. A pesare sul bilancio sarebbero crediti, contenziosi, debiti e pagamenti al di sotto delle quote che garantiscono la sopravvivenza della struttura. Il primo cittadino torquato da tempo ospica l'intervento di un partner privato che possa investire sulla gestione del mercato ortofrutticolo, lasciando il ruolo di controllore ai comuni soci. È venuto fuori da un'analisi svolta, soprattutto condotta dal dirigente del settore finanziario del comune di Corbara e poi condivisa con le segreterie generali dei due comuni principali partner, cioè Pagani e Nocera, che oggettivamente il quadro dello stato finanziario ed economico del mercato di Nocera Pagani o Pagani e Nocera è un quadro che desta, nonostante la gestione liquidativa, preoccupazioni e all'attualità e in modo prospettico, a meno che non si intervenga in un modo che punta ad essere risolutivo anche rispetto agli assegnatari attuali degli stand, ma non solo, con una serie di attività di riscossione in materia di pedaggio, insomma una serie di correzioni che vanno verso una direzione virtuosa, ma anche, cosa che il comune di Nocera ci tengo a dirlo, dice da anni inascoltato, alla necessità di individuare molto probabilmente, quasi sicuramente allo stato delle cose, un partner di carattere privatistico di calibro, capace di svolgere attività di investimento e di gestione di quelle strutture, rimettendo ai comuni le funzioni di controllo. Purtroppo debbo dire che con il principale partner comune di Pagani, per anni, non parlo dell'attuale gestione amministrativa dell'Avvocato Riprisco, ma soprattutto in pregresso, noi siamo stati costantemente in affanno a dover sollecitare delle attività. Lo abbiamo fatto per mettere in liquidazione, all'epoca, il vecchio consorzio. Lo stiamo facendo adesso, avendo presentato da oltre quattro anni, anzi credo di più, una ipotesi, una prospettazione di lavoro, proprio per questa individuazione possibile di un soggetto importante, e anche per arrivare ad una ridefinizione, una fotografia attendibile nell'interesse degli operatori stessi della gestione presente e potenzialmente futura dell'area mercatale. Se si continua ad avere pagamenti al di sotto delle quote che garantiscano il mantenimento in vita della gestione mercatale, se si considerano i crediti o i debiti che la struttura ha maturato nel corso del tempo, a talvolta anche nei confronti degli stessi comuni soci, se si considerano una serie di contenziosi che ci hanno visto soccombenti, se si considera che determinati pedaggi non vengano incassati secondo un quantitativo di tariffa che potrebbe essere incrementato allo stato delle necessità, non stiamo parlando di auspicio, è chiaro che il mercato va in default, va in difficoltà.